Io farò la prima media. Adesso che inizierò una nuova scuola mi sembra una cosa grande. Nuovi amici, nuove maestre, nuove cose. Almeno vedrò come sarà fatta dentro e come mi prenderò un po' l'abitudine di starla dentro. Ho avuto un po' di ricordi alla scuola vecchia. Mi è dispiaciuto che la scuola si è distrutta perché ho vissuto l'asilo e l'elementare. Ma però alla fine quando è successa questa brutta cosa ho capito che almeno dovrò continuare e andare avanti. Sono felice che hanno fatto una nuova scuola perché sono un po' dispiaciuta perché i miei maestri mi stavano dicendo e anche dei capi di qualcosa mi stavano dicendo che la nostra scuola è antisismica. Io ci credevo ma alla fine quando ho fatto questo terremoto si è tutta rotta, ho visto tante cose che mi facevano piangere e quindi sono felice che hanno fatto una nuova scuola. Ci lavorerò, sono delle cose impegnative perché a me piaceva questa cosa. A me mi piace tanto l'italiano e la matematica e l'inglese. Sono delle cose fantastiche che ti fanno imparare e ti fanno scrivere tante cose così te le puoi ricordare per tutto il semestre.